Il diario di Q, Roma, primo novembre 1550 C'è un ultimo lavoro da fare, Caraffa lo ha riservato per me. Delicato e importante come gli altri incarichi, forse di più, così importante da non poter essere svolto da alcuno che non sia il più fidato, il più meritevole dei suoi soldati. Sa di avermi messo più volte alla prova, di avermi chiesto sempre il massimo sforzo. Dopo quest'ultima missione potrò godere un meritato riposo, beninteso. Sempre che ne abbia voglia. Ho accettato con entusiasmo, il vecchio questa volta non ha saputo leggermi dentro. Fottere i giudei, questi odiosi parassiti impenitenti assassini del Cristo, spesso convertiti alla vera fede per convenienza al solo scopo di continuare a trarre lucro dai loro sudici affari, ha detto. Un morbo che appesta dall'interno il corpo della cristianità, un morbo che è giunto il tempo di estirpare. Occorre cominciare da dove è più radicato? Venezia. Ha detto di aver capito ancora una volta dai miei resoconti che ero l'uomo più adatto a questo compito. In verità l'importanza stessa della questione gli si è fatta chiara leggendo di quale potere possano accumulare queste immonde famiglie di usurai. Già da tempo andava studiando la soluzione più adatta e adesso i tempi sono maturi e tutto è pronto, gli accordi sono stipulati. L'entrata in vigore dell'indice dei libri proibiti nei territori della Serenissima è un segnale evidente che le autorità veneziane hanno finalmente compreso la necessità di scendere a un compromesso, superando la spocchia e l'arroganza che da sempre le contraddistingue ed è chiaro il motivo. Le famiglie patrizie della Serenissima sono indebitate fino al collo, le loro fortune dipendono totalmente dalle borse dei banchieri merrani, un debito di tale portata da poter essere estinto solo con l'estinzione dei creditori. Lo scambio è di reciproca soddisfazione, a Carafa una dimostrazione di forza del Santo Uffizio nella città più ostile all'ingerenza di Roma, preludio del pugno di ferro che il potere inquisitoriale adotterà in ogni territorio cattolico, ai veneziani il risanamento delle finanze, attraverso la confisca dei beni dei ricchi giudei. Il meccanismo è già avviato, l'inquisizione e le magistrature veneziane hanno cominciato a istruire processi a personaggi marginali della comunità sefardita con l'accusa di cripto-giudeismo. Ma è ai pezzi grossi che bisogna arrivare, per arrivarci c'è bisogno di uno come me. Uno con trent'anni di guerra spirituale sulle spalle, in grado di creare in città un'ostilità diffusa verso i giudei, di additarli come la causa di tutti i mali, preparando il terreno a un'offensiva che investe all'intera comunità. Ho accettato con entusiasmo, ho nascosto lo stupore di veder prolungato il mio tempo, ho mostrato la maschera dello zelo, quella che oggi non mi appartiene più. Ultimo lavoro prima del meritato riposo, ultima infamia tenuta in serbo per chi da sempre e a parte dei segreti di Caraffa. Pensavo di essere giunto alla fine, ma mi viene concesso altro tempo. Quanto e perché? Non sono gli ai tanti e famelici domenicani che affollano questi corridoi a poter condurre trame del genere, troppo fanatici, pieni del ruolo che gli è stato affidato, sono incapaci di sottili strategie quanto efficaci nel perseguire ciecamente la preda che viene loro indicata. Tutto alla luce del sole. Caraffa li prepara all'offensiva più importante della guerra spirituale, la resa dei conti dopo dieci anni di accurata pianificazione, la costruzione che ho contribuito a edificare mattone su mattone, verrà portata a termine da altri, e molto presto. L'approssimarsi della ripresa del concilio, fortemente voluta dall'imperatore, pare essere l'ora in cui Caraffa scoprirà le carte, sferrando l'attacco frontale contro gli spirituali. L'attenzione sui volti e nelle voci dei giovani segugi guidati da Antonio Ghislieri, rapace che vola alto nella considerazione del vecchio, dice che ogni indugio sta per terminare. Non sarò di questa partita perché ne conosco tutte le mosse precedenti. Caraffa sa bene che due possono mantenere un segreto soltanto quando uno è morto. Nel frattempo mi affida l'ultima lercia crociata per cui non ho più lo stomaco, inventare il nuovo nemico e muovergli contro l'esercito cristiano. A chiunque accetterà di scendere in battaglia viene garantita una lauta ricompensa, le ricchezze delle sue vittime e un posto in paradiso. I veneziani sono i primi, altri dovranno seguire. A me, come sempre, il compito di preparare il terreno per la prima mattanza, poi non resterà che custodire il segreto sotto due braccia di terra. Ho accettato con entusiasmo. Venezia, c'è ancora tempo per sciogliere l'enigma. Questa volta non sarò l'instancabile ed efficiente servitore che Caraffa ha conosciuto. Sarà l'enigma, l'imminenza della sua soluzione a scandire il tempo che rimane. La sua soluzione a scandire il tempo che rimane.